Buon salve amici, come state? Ne stiamo benissimo e oggi siamo qui per fare la nostra intervista. Benissimo, allora abbiamo 14 domande da cui rispondere e possiamo iniziare. Prima di iniziare, sotto in descrizione, oppure no, vi mettiamo qui, come ci chiamiamo, io e lei su Instagram e su TikTok. No, vi mettiamo qua sotto tutte e due. Sì, ci saranno. Esatto, poi vediamo. Benissimo, iniziamo. Come vi chiamate? Allora, io mi chiamo Jennifer. Io mi chiamo Shari. Ok. Quanti anni avete? Allora, io ho 13 anni, tra poco 14. Io ho 9 anni, tra poco 14. Vai. Il vostro colore preferito? Viola, rosa, azzurro. Scusate, ma sono il preferito? Viola, rosa, azzurro, bene. Tutti i colori verso il blu e alcuni rosa. Tutti i blu e tutti i rosa. Sono un po' perché. Vabbè. Poi? Data di nascita. 23 maggio 2006. 5, 10, 15. 5, 10, 15. 5, 10, 10. Vi spiego. 5 ottobre 2010. Ci piace andare a scuola? Sì e no. In questo periodo vorrei tanto andare a scuola perché stando a casa fare niente, cioè non trovo cosa fare. Quindi sì. Sì e no. Vi piace andare a scuola? Quando devo andare a scuola? No, adesso mi manca un po'. Il vostro segno è giudicale. Il mio segno giudicale è genelli. E il mio segno è bilancia. Il vostro numero di scarpe? 37, 38. Il numero di scarpe è 32, 33. A me è 37, 38 perché dipende da scarpa a scarpa. Quanti siete in famiglia? 5. In famiglia siamo in 5. Avete cane o gatto? Sì, abbiamo un cane di nome Charlie che ha 3 anni. Avete nella stessa camera? Sì, purtroppo. No, sto scherzando, sì, comunque. E noi siamo nel lettone. Come vedi? Esatto. Come vedi? Preferita? A vostra? Che preferita? Matera preferita? Allora, italiano. Scusate. Di geografia e storia più o meno. E in inglese mi sta iniziando a piacere, però non molto. A me mi piace storia, matematica, matematica. Ui, mi piace. Cosa ho ben detto? Come vedete mi piace il viola. Perché si sta sempre avvicinando la telecamera? Ma che ne so? Ma vai avanti! Eh, cosa ho ben detto? Matera preferita. Sì. Italia... Ma che dico? Storia e matematica. Preferita? La vostra casa è grande. La vostra casa è grande? Sì e no. Allora, è divisa in due piani e di sopra ci sono una, due, tre, quattro stanze e giù ce ne sono tre. Sì, eh, abbiamo due bagni. Vabbè, comunque vi faremo il tour della nostra casa, tranquilli. Il vostro numero preferito ha anche più di uno. Ok, allora, il mio numero preferito è 7, 23, 11, 17... no, aspettate, cosa sto dicendo? 7, 23 e 11, punto. Io, ok. E 9, scusatemi. Aspettate. 5, 11, 17, 15... Anche il mio 15. Poi, aperta, e basta, e tanti altri numeri come mai, eh, ora che dico... Ora che le dici tutti... Allora, aspettate un secondo, ci vuole domani mattina... Allora, il mio numero preferito... Siamo ancora al primo, va bene. Non mi piaceva andare all'asilo? Stratanto! A me da... Vi racconto. A me mi piaceva... A me non mi piaceva. A me piace... A me non mi piaceva. Perché? Prima che questa maestra mi faceva questa cosa, mi piaceva stratanto. Un giorno, io, prima di fare lezione... Lezione! Giucare? Sì, no, lezione per dire pitturare queste cose. È una lezione, pitturare! Sì, per noi sì, quando eravamo piccoli. Io, io prima sono andata in bagno, perché... Privatezze, privatezze, private. E dopo dovevo andare ancora. Ma questa qua. Questa maestra, questa maestra dell'asilo. Ho detto, no, non puoi andare. E quella cosa di colorare quello qua. Non durava poco. Durava tanto. Io ogni 10 secondi. Posso andare in bagno? Posso andare in bagno? No, vai! E dalla mia è stata... E non mi vogliono andare a vero. E volevo come andata. Se l'ho lasciato il fatto che io e lei avevamo la stessa maestra, come sono state strabravi, con lei cattive. Non so perché, perché lei... Ben già finito il nostro video di 5 minuti. Strano ma vero. Esatto, ragazzi. Non abbiamo mai fatto un video così corto. Però, vabbè, noi speriamo che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciate un bel like, commentate e niente, commentate e basta. Commentate su Insta. Ah, su Instagram. Se lo mettiamo sotto in descrizione. Sotto in descrizione. Benissimo, ragazzi. A un prossimo video. Ciao!